Oggi siamo Ioaccia e andiamo a vedere un po' cosa c'è da fare. Ioaccia è la capitale della Guajira, la regione più a nord del sud America che confina con il Venezuela. La Guajira è la famosa terra indigena colombiana del popolo Guajiu, di cui riconoscerete in tutto il paese le bellissime borse fatte a mano dalle indigene qui a Rioaccia. Il mercato nuovo è dove dovete venire per poter curiosare la vita locale e comprare artigianato ai prezzi più a buon mercato del paese. Per il mentre vi viene anche fame, potete mangiare un piatto tipico colombiano in uno dei ristoranti del mercato. Non aspettatevi un servizio a 5 stelle, ma una cucina buonissima è decisamente tipica. A Rioaccia non esiste il trasporto pubblico, ma si arriva ovunque in moto taxi con meno di 50 centesimi. Il lungomare è l'anima della città, dove la sera potete godervi il fresco, curiosare tra l'artigianato Guajiu e goderevi questi bellissimi tramonti. curiosi di saperne di più? Vi invito a visitare il mio blog in Colombia, lo trovate su www.incolombia.it e passate a trovarmi su Instagram e Facebook, mi trovate come Robi in Colombia. Ciao e al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!